buonasera siamo qui con squamo migliore in campo nella partita tra white volves e fc revolution squamo migliore in campo autori di due gol la partita è terminata 6 a 2 per i white volves e credo sia la seconda parte una vittoria comunque vabbè era il derby senti posso parlare io anche il protagonista allora squamo oltre due gol per chi è migliore in campo vabbè migliore in campo di tutta la squadra c'è tutta la squadra ha giocato bene perciò abbiamo giocato bene abbiamo giocato palla a terra ho capito va bene senti data questa vittoria quattro punti seconda giornata i white volves ci hanno abituato alle zone alte della classifica tu sei il nuovo quindi abbiamo puntato in alto puntiamo in alto alla vittoria alla vittoria del campionato va bene salutiamo squamo borrillo che vende dischetti a via scarlacchi senti vuoi dedicare il gol il premio a qualcuno si dedico il gol alla mamma di niccolò io la mamma di simone sancarezza ok va bene ok allora ringrazio ciao scuamo scuamo